Ok, bella gente, tornati su quello che quasi sembra uno speedrun di XCOM 2 War of the Chosen, guerra del prescelto, no in realtà non è un cavolo di speedrun, semplicemente nell'ultimo episodio sono andato stra-mega veloce Mi sa che andrò abbastanza rapido anche in questo, a per un attimo pensavo che il gioco fosse crollato, mi ero dimenticato che mi ero già preparato con una missione Che cos'è? Ah, è quella in cui dobbiamo salvare i civili, ok va bene, va bene, allora questo è l'angolo di una mappa, cioè l'angolo della mappa, quindi dobbiamo andare in questa direzione Ok, va bene, procediamo Sto cercando un attimo di capire bene, ah ok, è quella, questa è una mappa senza i soldati che combattono, i soldati della resistenza che combattono anche per noi Quindi dobbiamo prestare un minimo attenzione Allora, voglio andare veloce, ma non voglio mettere in super mega pericolo i miei soldati, ok? Quindi andiamo, andiamo rapidi Cerchiamo di evitare di attivare due gruppi di nemici contemporaneamente, perché è una rottura di scatole Allora, voi non siete nascosti, quindi qua non vi ci posso mandare, perché se no venite visti Questi da qua non dovrebbero proprio vederti Esatto Allora direi che permettiamo a Il nemico di fare un turno d'attacco contro i civili Ah, che cavoli Qua non dovresti vedermi Fenix Ok, Fenix Non era difficile come cosa, ok? Però sei riuscito a rovinarla Tu qua riesci a flancarmi qualcuno E anche qua Ok, quindi con i miei ultimi due soldati uccidiamo il sectoid E poi vediamo il da farsi Allora, abbiamo un rookie Abbiamo... Ah, i due rookie per di più sono gli ultimi due soldati con cui ho mosso Quindi hanno solamente un 65% di possibilità di colpire, che ovviamente mancano Entrambi lo mancano, giusto, ovvio Perché mai non sarebbe dovuto essere stato così E tu cerchi di controllarmi mentalmente Ha solo panicato almeno Se vuoi andare a sparare al sectoid mi fai un favore Strano che hai mancato Guarda, non mi aspettavo altro Da uno con una mira così infallibile come la tua Non mi aspettavo altro Questo qua ha ucciso un civile o l'ha mancato anche lui? Manchiamo tutti in questo gioco, in questa partita? Ehi, un civile a turno, eh? Potete uccidere Fintanto che io non vi attivo Allora, vieni qua Dovresti essere in grado di vedermi il sectoid 46 e basta Senti Ucciditi, ok? Prendi il fucile con cui stai sparando al nemico Ficcatelo in gola E premi il grilletto, ti prego Ok? Perché non è possibile In realtà è possibilissimo Era meno del metà, del 50% Però porca vacca, ragazzi No No Sono Questa telecamera qua, bloccata così, è veramente scomoda Vorrei evitare di renderti visibile a te E preferirei cercare di ammazzare questo strombolo Però La cosa si sta rivelando più difficile del previsto Contanto che tu neanche lo vedi Ok? Perfetto Quindi il mio rookie quasi certamente è morto, immagino Perché Non è, non è dietro a copertura Ok Allora Vieni qua Good to go L'ha detto lui, eh? Non l'ho detto io Scusami, ma questo qua come parla? Parla come un robot Granade out Senza nessun genere di Enfasi Nel suo parlare Tu ancora non vedi nessuno, ovviamente E ci siete solamente voi due Ok Usare la Claymore ti consuma un turno Quindi non farlo per adesso Tu cosa fai? Tu dovresti beccarti un Overwatch Ce la fai? Grande! Oh, finalmente Qualcuno che fa quello che deve Panic removed Questi qua tecnicamente non mi hanno ancora visto Quindi non sparano a me Però hanno ucciso un civile I civili hanno solamente due di vita Uno di vita? Quanto di vita hanno questi civili? Oh Che cosa pessima che avete fatto Non avete idea di che cosa avete appena combinato voi Eccoci qua Questo mi piace Non è morto quello lì? Ah vaffan cuculo Ha usato il suo potere strano Di sustain Comunque ha ucciso tre nemici da sola Lei Elena L'unica che sta facendo qualcosa Beh in realtà no dai Abbiamo anche ucciso un sectoid E un Mi sembra un secto di basta Un sectoid? Tu con un Ehm Beh Con un overwatch Giusto Fenix Sei stato tu vero? Sì E Lei ha ucciso tre soldati Quindi erano due gruppi da due Tre Più uno qua che è quasi morto adesso Ehm Non mi dispiacerebbe mettermi in overwatch E tipo Beccarlo quando lui si rialza No? Peccato che tu non lo vedi Quindi avvicinati di più Piuttosto Non volevo metterti lì Però va bene Ehm Tu puoi venire fin qua Ok Quel remote start Da solo Mi avvera Ovviamente Grazie 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 Perfetto Che è flancato È flancato Perché non doveva esserci un gruppo di nemici lì? A chi non veniva C'è un'intera mappa qua Ok Arriva fin qui la mappa Ovviamente dovevano essere qui a destra Grazie Non ho ne idea di quanto io apprezzo questa cosa Sì sei stra mega flancato te O almeno flancabile al prossimo turno Vabbè Speriamo di non perdere un soldato Incrociamo le dita Altrimenti Mi taglio una gamba Che sta succedendo? Ah ok Grazie Ci mancava anche questo Non potevi aspettare due turni Eh te Però questo turno tu non attacchi eh Tu ovviamente puoi colpire Sparare Attaccare Il turno in cui sei sopravvissuto Uh Se fai status su di lui È possibile che i nemici non gli sparino Sarebbe una cosa stra mega piacevole Lo sai Tu sei corso in mezzo alle fiamme E hai fatto due turni di movimento Anche tu sei corso in mezzo alle fiamme Ma contro chi sto combattendo? Ma contro dei rincoglioniti sto combattendo? Contro dei rincoglioniti senza mira Probabilmente ha mancato perché Aveva preso fuoco Quindi era un pochino spaventato Poverino Allora tu mi lanci Fammi un attimo vedere Il mio granadiere Dov'è? Il mio granadiere è quello che è in status Sì Jakewood Ok Quindi Dovrei avere quattro soldati no? Sì Uno due tre quattro Dubito di riuscire ad ammazzare il faceless Non mi dispiacerebbe Mandare la tua granata Cavoli A pochissimo range Non riesco neanche a colpire e Distruggere la copertura di qualcuno Però Vale la pena Lanciarla E poi sparare Perché se no Lei Può fare solamente una cosa Che è sparare Invece Lanciare la cosa E sparare allo stesso turno Conviene veramente Quindi lancia questa qua Il problema però E che sei flancata Se sparo adesso Quindi o li ammazziamo tutti e tre Questi qui Cosa Non estremamente facile Allora tu potresti usare combat protocol Su questo qua E assicurare l'uccisione E non mi dispiace E credo che il tuo turno finisca Giusto? Perché tu Questo ti consuma come se fosse un attacco Fammi un po' vedere Sì esatto Il tuo turno è terminato Tu puoi venirmi qua Puoi E flancarmi Sì mi flanchi qualcuno Ok Mi flanchi questo qua 76 Credo che ne valga la pena Giuro Che non ne valeva la pena Se avessi Cioè ne sarebbe valsa la pena Se avessi dei soldati normali Che Hanno Cioè io Io avrei colpito quel bersaglio Ok? Io ce l'avrei fatta Tu no Tu no a quanto pare Io ce l'avrei fatta Allora Ce la facciamo Spara Alla bomba Cerchiamo di ammazzare almeno Un Cavolo di sectoid Se ci riusciamo Allora Sfortunatamente Renderemo visibile lei Abbiamo una tonnellata Di soldati flancabili Però a questo punto Diamoci da fare Ammazziamo qualcuno Dovrebbero essere Gli ultimi due nemici Questi qua Strano E sempre nel 50% rosso Ok Tu letteralmente Sei morto il prossimo turno Perché brucerai Vai a sparare a un civile Per favore Non sparare a me Ok? Mi stai flancando tipo 8 Veramente sei andato a sparare a un civile? Ok Va bene Non è proprio la cosa Che avrei fatto io Ma Sei E tu anziché ad andare Ad ammazzare un civile Vieni ad ammazzare me Ok? Uno me ne colpisci Vero? Non tre Hai 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 mancato una persona O ne hai mancate tre? Perché se ne hai mancate tre È abbastanza imbarazzante Da parte tua Allora tu sei un rookie Tu tecnicamente sei morto Se stai ancora bruciando Quindi Concentriamoci su Ammazzare questo Ok? Tre di danno e basta? Ok Ero abituato male con le mie armi migliori Tu vieni qua E spari a Questo qua E Quattro di danno Che credo che sia ancora il minimo possibile Da parte tua Tu vieni qui E mi spari a questo qua Cento per cento Brava Meno male che tu c'hai un pochino più di mira Gli altri due non avevano cento per cento Mi sa E tocca a voi due Allora è piuttosto semplice Ok? Hai un ottantacinque per cento Di possibilità di terminare la missione Bravo Termi Ok stavo dicendo Missione terminata Perfetto Sto anche parlando molto veloce Secondo me Il che non mi fa bene alla gola Ok Wuh Incredibile che nessuno è rimasto ferito Però a quanto pare andare veloci È il metodo giusto Gente Non so cosa dirvi Sto Le cose relativamente Stanno andando meglio Che nell'altra partita Finora Però non possiamo permetterci Di andare così Tu sei già salita di un altro livello? Ok Allora Sharpnail È stramega importante Anche questo è stramega importante Soprattutto per quando vedremo L'assassina Però per adesso facciamo questo Lo preferisco Tu sei diventato un granadiere Ok E tu sei diventato un ranger Va bene Avrei preferito una promozione su Uno dei soldati che era Già specializzato Però va bene 30 supplies in più Niente male Dobbiamo andare a terminare La ricerca Il recupero del nostro Di denaro Mi sa Eh lo so infatti Allora questo no I soldi Voglio Perché devo costruire Il Resistance ring Si chiama Per fare più missioni secondarie In cui non devo controllare I miei soldati Ok Abbiamo tutti i soldi Ignora Allora Non è che ne abbiamo tantissimi Eh però È quello che sto facendo Allora Smetti di scavare qua Vai a lavorare qui Quante elettricità Ho ancora Ancora Altri tre Ok va bene Tu hai quasi finito Qua non potrò costruire niente Tu qua ci metti un secolo Va bene Cosa andiamo a fare In ricerca adesso Potrei andare a fare Contatto con la nazione L'ho già fatto Quindi potrei andare A distruggere sto coso Ma non mi sento Molto sicuro al momento Potrei andare a fare questo Uh due giorni e basta Per supplies Ok facciamo Quello di due giorni Che è veloce Dovrei riuscire a farlo Prima che il gioco Mi dia un'altra missione E poi fare Quello che mi da Soldato Che mi domando Che cosa cavoli voglio dire Allora Non costruire niente Ricomincia a scavare qua Ci vogliono due giorni Per terminare Qui Ok Qui costruiamo Devo costruirlo Un resistant Comps Complete the advent Black site mission No Dovevo solo fare la ricerca Ok va bene Va bene Quanti contatti ho ancora Ne ho un altro Dopo questo Va bene Va bene Non è un problema Non è un problema Per il momento Training center Training center Allows soldier To establish Stronger bonds Beaver fellow soldier In pure case Additional technical abilities Ok questo è abbastanza importante Però non voglio costruirlo qua Perché se faccio come prima E costruisco qua Il Il workshop È uno spazio in cui Non dovrei mettere un gremlin Se non mi ricordo male Sì non servono gremlin In quello Esatto Mentre nel resistance ring Qua in alto Sì Quindi preferirai Metterlo qua Posso costruire qualcosa Nel frattempo Un'altra stanza Giusto per guadagnare tempo Non sarebbe una cattiva idea No però adesso Risparmiami i soldi Posso comprarmi Qualcos'altro Qua di potenziamenti Credo di no Infatti Però per adesso Per adesso Stiamo tranquilli Per adesso risparmiamo Ah ok perfetto Potevi dirmelo prima Mentre ero in questa schermata Così Sarei stato messo meglio Cioè avrei perso meno tempo Qua ogni secondo conta Gente Allora Tre granadieri Tre ranger Un reaper Scusa e tutti gli altri Perché mi li hai messi qua in fondo Uno sharpshooter E due specialisti Ok Cecchino È stato deciso È stato deciso Il popolo ha votato E abbiamo deciso Che abbiamo pochi cecchini Congratulazione Francesca Roberti Sarai un cecchino italiano Fantastico Termina qua 60 supplies Ok va bene Era giusto Stavo dicendo Non dovevi darmi un soldato No Dovevi darmi Dei soldi Allora Diamo qualche Qualche nome E allora Tu Sei a Già non mi ricordo più i nomi che avevo dato prima ai miei soldati Ho un completo vuoto Ho un completo vuoto di memoria Non ci posso credere Uno Due Tre Quattro Dovrei dare tipo quattro soprannomi Allora c'era Marcus Fenix Madre di Bambi Lara Croft Elena rimane Elena Leonardo Fibonacci Va bene C'era Joy qualcosa Che era la tizia che aveva inventato il mocio Giusto E Potrei chiamarti Joy Rai Rai Si chiama La protagonista di Inside Out Joy è la protagonista Quella gioia Praticamente Rai Dovrebbe essere la bambina Se non mi ricordo male Vabbè E Quali erano gli ultimi due soprannomi Non mi a cui avevo pensato Porca vacca Qua sto perdendo tempo Gente Uno Era da Che Sergente Cheroro Perfetto Che è fantastico Di questo sono molto orgoglioso Tu sarai molto importante Ok Tu non devi mai morire Cheroro deve sopravvivere per sempre E poi Sergente Cheroro Boris Cosa ti potremmo chiamare Boris Sei quello che era Stra mega Addormentato Durante l'ultimo combattimento Che hai parlato Come se fossi Estremamente annoiato A te Possiamo dare Fammi pensare C'era C'era Gufo Reale Era morto Gufo Reale Però No Gufo Reale Era sopravvissuto Fino alla fine No Mi sa Non mi ricordo neanche Che classe era Gufo Reale Ok però adesso Ci fermiamo qua Altri due soprannomi dati Procediamo Vai a questo soldato Voglio vedere che soldato Mi da Più che altro A che livello Me lo da Perché di certo È diverso dal rookie O tanti rookie Ok Perfetto Perfetto Allora Posso costruire Un workshop Seriamente Però costa Veramente tanto Però ne vale Tanto la pena Contando che Per di più Posso mettere I cosi anche a scavare Quindi posso Metterli qui a scavare È vero Che genialata Lo sai cosa Costruiscilo Costa un bordello Ma credo Che ne vale la pena Quindi qua Mettiamo un affare Dell'elettricità Dopo Che mi sa Che è tipo Esattamente identico A come lo avevamo Fatto Nella scorsa partita Ok Tre giorni Probabilmente Lo terminiamo Prima di una missione Oh Abbiamo la missione Per andare a liberare Moxie L'andiamo a fare Subito Si Shadow Squad Ok Quindi è identica Ogni singola volta Ok ok Allora Non l'ho ancora scoperto Perché non mi hanno mai Catturato nessun soldato A parte Mox Credo che più tempo Li lasci Catturati E Con Lara Croft No si E più tempo Lasci che I soldati Siano in mano Ai nemici Più è probabile Che Riescano A A interrogarlo A rubargli informazioni Immagino che sia così Mandiamo Marcus Fenix Perché di certo Dobbiamo Hackerare qualcosa Almeno la porta Per aprire Tu ti pigli la smoke grenade Tu Granate non ne lancerai Se non Queste qua Perché Come l'altra volta Vorrei fare questa missione Senza sparare a nessuno Vai 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 Veloci 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 Lo sai cosa? Intanto che qua Fa vedere il video Io vado a vedere La mia cosa Ma La mia cosa La mia cosa Siamo tornati Security level Level 1 Ok Moxie Sei in una posizione Relativamente Scomoda Ma Ce la possiamo fare Abbiamo fretta Ah vediamo già un nemico O una torretta Un nemico Allora io direi di fare Il giro qua a sinistra E Dio santo sei lontano Non era così tanto lontano L'altra volta E tipo passare da di qua Direi di sì Tu vieni qui Tu Puoi venirmi Qui Per adesso Tu puoi venirmi qua Ok Non vediamo torrette Vieni qui E tu vieni qua E ok Va benissimo così E intanto voi due Pappa e ciccia Fate sempre più amicizie Mi raccomando Siccome tanto Non abbiamo fretta E non abbiamo Urgenza Di sparare Ai nemici Voi potete passare Tutto il tempo Che volete A fare due chiacchiere A raccontarvi I vostri segreti E a diventare I migliori amici Di sempre No Non passare da di lì Ovviamente Voglio che passi Da qua dietro Non fare cretinate Ok Non mi dispiacerebbe Anche come poi Scoprire com'è Il level bond 3 Che non abbiamo mai Raggiunto finora Allora Dobbiamo fare attenzione Perché sappiamo Che ci sono delle torrette Che ogni tanto Sembrano essere invisibili Dio santo Ma quanto è lontano Non mi piace molto E questa strada Di qua era più corto Se andavamo verso destra Vabbè Se la vi Ormai siamo di qua Non ha senso Piangere sul latte versato Vieni qui Ok Possiamo entrare da di lì Niente torrette Per adesso Ok Vieni fin qua E tu vieni fin qui Stepping off Ok Ok C'è qualcuno Una cosa Non ci fa Né caldo Né freddo Allora Dobbiamo iniziare Ad entrare C'è poco da dire C'è poco da fare Vieni qui Una torretta Ok Nessun problema Allora Non muoverti di più Di così Adesso Tu vieni qua Ok La torretta Ci vede veramente poco Il che è perfetto L'unica cosa Che adesso Mi può fregare È un nemico In pattuglia Che arriva da di qua Sperando che non succeda Ah Scusa Non so perché Ho tipo fatto Tre overwatch Quattro overwatch Con tre soldati Ok Nessun nemico Molto molto bene Nessun altro nemico Ok Ok Va bene Va bene Però dentro qualcuno ci sarà Primo o poi Ne sono certo Tu vieni qui Ma sai cosa Preferisco metterti qua Se arriva qualcuno qui Così loro non ti vedono Però potrebbe essere visto lui Però è già un soldato in meno Che può essere visto Gli altri due possono andare in overwatch Al momento Ok Molto bene Molto bene Vieni qui Uh Un'altra torretta Ok Nessun problema Vieni fin qua E anche un soldato Va bene Nessun problema E per di più Questo soldato Sembra Non riuscire a vedere Fin dentro Ah perché la porta è chiusa Ecco perché Però ci sono delle finestre Le finestre mi preoccupano Un po' di più Tu Mio caro Non dovresti Vedere fin qua Sono abbastanza sicuro Sono disposto A rischiarlo No Vieni qua Che sappiamo Che non ti vedono E tu Vieni fin qui Overwatch Ok Adesso Dobbiamo rischiare Sono sicuro Che se ti metto qua Quel tizio là Ti vede Sai cosa Vieni qui Ok Tu Cosa vedi Vedi questa torretta Ok Un po' strano Ma va bene E niente Vieni fin qua Ok Non ti hanno visto Il che è molto positivo Vieni fin qua Facendo questo giro Ok Bene 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 Ci siamo quasi Ci siamo quasi Gente Ci siamo quasi Vieni qua Tu vieni qui Nessuno di voi Può andare in Overwatch Ma non è un problema E puoi giaccherare Tu da qua Però qualcuno Dovrà comunque entrare Per andare a Salvarlo Quindi Tanto vale Mandarti vicino Tecnicamente Potrei hackerare La torretta Ma non credo Che abbia senso Scusa Però mi avevi detto Che potevo hackerare La porta Adesso non me lo dici più Ok Allora A questo punto Vieni qui Non è questa La porta Che devi hackerare Ok Va bene Vieni qui Però puoi già farlo No Vieni qua Per adesso Allora Se non mi ricordo Ci sono due opzioni Quella di Assicurare che non scatti un allarme Oppure un'altra Che ti dà qualcos'altro Vediamo cos'è quell'altra Se non è buona Andiamo con il Tipo 100% Di possibilità Di non far scattare un allarme No è comunque solamente 80 Recover a small cache alien alloys Cancella l'accheramento Per adesso Dammi un secondo Posso Chiamare Gli elicotteri qua Sì Ok Allora Tu hai già consumato No Tu non hai ancora consumato niente Il vedere basta Non ti consuma la cosa Allora Voi due Fin qua ci arrivate Ok Akera Rischiamo Il 77% E poi corriamo Verso l'uscita Non c'è nessun problema Anche se lo falliamo O anche se ci riusciamo Non è un problema Scatti pure l'allarme Chi se ne frega Non me ne frega assolutamente niente Dammi Questo Metallo alieno Sì ok Il gioco me li mette qua Ma so già Che posso Chiamarli in un'altra zona In un altro punto Voglio dire Allora tu vieni Qui Ok Spero che riesci a recuperarlo Scusami Vai sui miei soldati Per favore La telecamera è bloccata Ok grazie Allora Chiama l'elicottero In un altro punto Più intelligente Che è questo Ok Mi vai In conceal E vai qua Per adesso Tu mi vai in conceal Vorrei mandare via Tutti i miei soldati Contemporaneamente E mi vai qua dentro Ok Allora spero che tu Da quell'angolo Ce la fai A prendere I moxie Se ce la facciamo Siamo a posto Ok Non è nessun problema Questo io me ne sono già andato Non riesci a prenderlo Ah no si ce la fai Eccolo qua Ok Missione finita Perfetto Nessuna uccisione Nessuno che praticamente Ci ha visto Siamo freschi Come un mazzo di rose Vai 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 Direi che è eccellente Avremmo potuto Cercare di ammazzare Qualche nemico Per ottenere Dell'esperienza Mi va benissimo Così ragazzi È perfetto A dire poco Spettacolare E siamo già A due missioni In un video Perfetto Vediamo di fare la terza A questo punto Cerchiamo di mantenere Questo livello Di velocità E poi Ricomincio A metterci Un'ora e mezza Per fare Una singola missione Eccoti qua Alien allo Beh 10 e basta Vabbè Meglio di niente Ok Eccellente Eccellente Ehm Non ho nient'altro Da fare Mi sa Cioè infatti Ho pochissimi soldi Spesi tutti Nel cavolo Di coso Uh supplies Però non adesso Ah ok Per un attimo Pensavo che fosse La costruzione Che aumentava L'avatar project Ok Cos'è che faceva Curava più velocemente Questi qua Ok Grazie Betos Uh Questo non è per niente male Questo è abbastanza inutile Cos'è che fate voi Build faster Ok Allora dammi Questo soldato Manca un solo giorno È possibile che il gioco Mi dia una missione Però appena Atterro Perché a volte Lo fa No Manca Mezzo Secondo Ok Vabbè Andiamo 74 intel Non è male Togliere questo Non sarebbe male Un altro scienziato Non sarebbe male E questa non è idea Di cosa voglia dire Quando dice Tecnologia aliena Recupera un oggetto Dal Paradiso Della resistenza Dal Luogo sicuro Della resistenza E dov'è il pericolo Scusa Non dovrebbero esserci Nemici Facciamo questo Preferisco avere uno scienziato E togliere questa roba qua Perché enemy tech Faceva vedere Un Mech Non vorrei che potenziasse Quel genere di nemico Il che sarebbe Veramente una tragedia Questo non è esattamente Positivo Però Non lo so Mi spaventa di meno Andiamo a fare questo È possibile che incontreremo La simpaticona Di cacciatrice Allora non c'è nessuno Che sta facendo Una missione Advent Tu sei ancora stanca Per altri due giorni Va bene Allora quindi Vieni te Moxie Venite di nuovo Voi due Voglio farvi Voglio farvi fare amicizia Quanto più possibile Specialista E cecchino Perfetto Allora Med kit Più vita Smoke grenade E flashbang grenade Poi Potremmo già potenziare Uh posso anche potenziarvi Con questo Più di dodge Allora di solito Il mio ranger È quello che è più Vicino agli avversari Che sei tu Diamoti più dodge A te Ne ho solamente due E sto già facendo La ricerca Per le armi magnetiche Lo sai cosa Non potenziare le armi Quello con più will Invece Lo diamo A te Così Per puro divertimento Non c'è esattamente Un gran motivo A farti panicare Effettivamente con te È una buona cosa In modo che Così puoi sempre Sparare per prima E cercare di distruggere Le corazze Dei nemici Corazzati Ok dai Facciamo anche Questa missione Non l'ho mai fatto Questo genere Di obiettivo Recuperare un oggetto Interessante Interessante Quindi siamo In dei tunnel Sette turni Però in compenso Siamo invisibili Però porca vacca Sei lontano Vacca miseria Quaggiù ci potete venire No c'è dell'acqua E poi dovete passare Da questa porta O da questo ponte Forse conviene mandarvi Quassù Moxie Grapplin Vieni fin qua Esatto Bravo Vedi qualcuno No Dov'è la porta Che ho detto prima Ah questa qui Ok Però c'è anche un enorme Buco di qua Allora Per adesso Voglio assolutamente Non attivare dei nemici Vieni qua E non vedi nessuno Ok perfetto Puoi venire fin qua Allora Buon per te Ok Va bene Va bene Adesso sappiamo Dove andare Vieni qui Tu resti qua Dove sei Cavoli Meno male Che non ti ho fatto Venire fin qua Ti avrebbero visto Che Botta di fortuna Vieni fin qua Allora Piuttosto Tu vieni Qui E tu Vieni qua Moxie Tu andrai in No Non devo neanche mettere Moxie in overwatch A quanto pare L'ho mosso tre volte Con il grappling hook Ovviamente Allora Uh potete avvicinarvi Ancora un po' Interessante Interessante Spara E stranamente manchi Se ammazzavamo Quello lì Il sectoid È facilmente uccidibile Con la spada Del ranger Se non si allontanano Troppo Come degli stronzi E infatti Non ci arrivi più Dall'altro Ok Va bene Allora Spara E poi Se lo manchi Usi justice Ok Non l'hai mancato Però Usa comunque justice Adesso 73 E uccidilo Ok Mi rimangono Tre soldati Per ammazzare Il sectoid Dovremmo riuscirci Allora Allora Sfortunatamente Però Ho solamente Due protezioni Il che vuol dire Che tu Ah da qua Me lo vedi lo stesso Ok Però non mi dispiacerebbe Avvicinarti Comunque di più In modo Che così Se non lo ammazziamo Questo turno Eh però Non posso farti sparare Se ti muovo Di giallo Perché così Potevo usare Il Lo slash Il prossimo turno 76 Non è male E poi altri due Col cecchino Dai Basta che non mancate Ok Adesso il cecchino Però deve fare tre Non due Perfetto Meglio di così Non si poteva chiedere Ok dai Nonostante Sia partito molto male Questo turno Direi che si è concluso Molto bene Potrei mettere te qui Ma mi rischi di attivare Un altro gruppo di nemici Quindi vieni qua Piuttosto E non dovresti attivare nessuno Perché non sei a bordo Del muro E resti fermo lì Poi Tu Vieni qua E vedi se mi attivi qualcuno Tu ti chiami cowgirl Come la posizione sessuale Guarda Se è il soprannome E ti È il tuo soprannome E ti fa piacere averlo Felice te Io Personalmente Alla madre di Bambi Stavo per dire di Barbie Alla madre di Bambi Non avrei mai dato Il soprannome cowgirl Però Chi lo sa Forse vuol semplicemente Dire come cowboy Lei è cowgirl E quindi Che probabilmente anche Adesso che ci penso Da dove viene Quel soprannome Per la posizione Durante il rapporto Dal momento che Ti comporti come se stessi Andando a cavallo Se non mi sbaglio Non lo so Non la conosco così bene Quella posizione Non sono un Un fan del Non so neanche se definirlo Kamasutra Quello effettivamente Comunque Ricaricate Non voglio attivare adesso Dei nemici Anche se però Dobbiamo darci una mossa Perché cinque turni Per arrivare là Non è che sono tantissimi Moxie ti ho detto Di ricaricare un secolo fa Per favore Grazie Allora intanto Le abilità di Moxie Sono in cooldown Ma piano piano Stanno risalendo Tu vieni qui E non vedi nessuno Ok Ok Questo ha più senso Ok Il primo stun lancer Del gioco Allora Il sectore Dovrebbe essere uccidibile Con una spadata Non ci arrivi Però Potresti ricevere Un turno Dal tuo amico E poi Dovresti riuscire Ad andare ad ammazzarlo Il che è perfetto Il che vuol dire Che manchi solamente tu Possiamo lanciarti Contro una granata Ah cavoli Quassù non puoi arrivarci E neanche da queste parti qua Ok Allora Moxie Tu arrivi qua E copertura a metà Lo so Non è fantastica Ma Stai tranquillo Tu hai combat protocol Il che vuol dire Che assicuri due danni Su quello là E non è male Tu non vedi nessuno Da qua li vedi entrambi Ok Allora Moxie Non mancare Grande Cecchino Non mancare Incredibile Wow Ragazzi Mi rimangio tutto quello Che ho mai detto Di male Su di voi Teamwork Su questo qua Allora Allora L'unica cosa Che adesso Potrebbe succedere È che tu Correndo verso Quel sectoid Attivi un Nuovo gruppo Di nemici Speriamo di no E non si direbbe Ok Ottimo Ottimo Abbiamo altri Quattro turni E siamo abbastanza vicini Ok Allora Tu rimani qua Per adesso Sai cosa Marcus Potresti avvicinarti Un po' di più Però non vorrei Che fossero qua E mettendoti qua Gli attivi Proprio adesso No Non rischiamo Non rischiamo Lo so Lo so Allora Tecnicamente Se tu lo vedi Lo puoi 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 mandare Il tuo gremlin Da remoto Ok Ha attivato gli ultimi nemici Va bene Va bene È un prete Che di solito Non fanno danno E un advent normale Allora Tu puoi tagliuzzarmi qualcuno Il che è perfetto Tu non mi vedi nessuno Tu mi vedi qualcuno Tu non mi vedi nessuno Però puoi venire qua Ok Tu puoi venirmi qui E probabilmente lanciarmi una granata Tu Moxie Verrai qua E vediamo cosa puoi fare Allora Spara con la tua pistola Di vacca Solo 35 Va bene Allora Lo sai cosa Preferirei non farti saltare in aria Perché se ti ammazzo Con la granata Potresti non droppare I tuoi oggetti Quindi Proviamo intanto ad ammazzarti senza Ok Prova tu Ok va bene Adesso ti ammazziamo con la granata Allora Che comunque la granata Anche lei non ha il 100% Di possibilità di ucciderti Però dovrebbe distruggere La tua copertura Quindi madre di bambi Dovrebbe ammazzarti Senza problemi E il prete Verrà ucciso Sapevo che faceva 3 di danno e basta Il prete verrà ucciso Da il ranger Quindi Vai 100% di possibilità Di colpire Morto E madre di bambi Dovrebbe avere Una ottima possibilità Di colpire L'ultimo soldato Ieeeh 79 basta Però non l'ha mancato Dio santo Che botta di culo Sono abituato male Con dei Oh Era l'ultimo nemico Perfetto Vieni qua Quindi Akera Vediamo cosa riusciamo A ottenere di positivo Ok Non posso hackerare Questo turno A quanto pare No Ok Concludi il turno Chi se ne frega Akera Perché hai fatto Il giro dietro Perché stai hackerando Da dietro al muro Tu adesso me lo spieghi Andiamo con il 51 Che comunque è abbastanza improbabile Cioè è improbabile al 40 Eeeh Sarebbe andato anche il 32 Porca Vedi Mi devo fidare di Marcus Fenix Marcus Fenix Akera Sempre Abbastanza E io non mi sono fidato Perché sono una pessima persona Sono una persona senza cuore Marcus Fenix Da Il 130% Ogni volta Che ha a che fare con un computer Un server O anche semplicemente Un monitor Ok E io non mi fido Io non mi fido Sono un mostro Sono Ok Lo sapete cosa? E non facciamo un'altra missione No Però come prima Uh Genius Level Ok Interessante Buon per te Che sei un cazzo di genio Lighting Reflexes Non è per niente male Allora Prendi questo Di certo E tu vai con Lighting Hands Che non è per niente male E Diamo un'occhiata A chi è un genio E a chi è stupido A guadagnare Punti abilità Ok Ehm Pa 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 Bene Vieni qua Voglio almeno Preparare la prossima missione Allora Gifted Above average Genius Gifted Che altro è un genio Ah Lara Croft Niente male Nessuno è sotto la media Wow Nessuno è sotto la media Incredibile Ok Direi che Facciamo in modo Di avere pronta La prossima missione E poi terminiamo Qua il video Ehm Black Market Un giorno per Un giorno è basta Quasi quasi vale la pena Andarci Però prima fammi questo Che mancava Anche lì un giorno A te non ti sei ancora Fatta viva Dopo avermi rapito Moxie Ok Perfetto Uno specialista Sto leggendo Scusate Posso sapere Di che livello sei Sono interessato A conoscerti Dovresti essere te Sì sei tu Sei a livello 1 Ok Non è proprio Spettacolare Però Forse è meglio Che dei semplici rookie Lo sai cosa faccio Che non avevo fatto Le altre volte Vammi a sbloccare Il Black Market Sì Non l'avevo fatto L'altra volta Perché io Del Black Market Non lo uso Però non è una cattiva idea Solo un giorno Ok Ehm Credo che sia il caso Di avere Tre soldati Per ogni classe Minimo Quindi di certo Un altro cecchino Vabbè solo un altro cecchino Mi manca Forse è meglio averne quattro Uno due tre Sì forse conviene averne quattro Comunque Per adesso Cecchino Yes E sharp shooter E ok Qua manca un giorno Qua ne mancano set Vai Proprio adesso Ah ok Bene Meno male che non è una missione Perché Vorrei terminare La Il A sbloccare Il Black Market Il mercato nero Il mercato Sotterraneo Che ci vuole Sieno Due ore Per favore Per favore Telecamera del cavolo Grazie Ok Ok Sactoid Corpse Ah Interessi per questo mese Ah Questa è una roba nuova Ah Lo sai che quasi quasi Ti vendo Effettivamente La roba Per cui tu mi dai più soldi Il problema però È che tu Mi vendi per soldi Cioè Io vendo a te per soldi Ma compro con Intel E l'Intel Non la voglio utilizzare Per questo La Intel La voglio usare Solamente per fare contatto Con le altre nazioni Quindi Probabilmente Non comprerò mai niente Però venderò Probabilmente Me li compri a 10 Piuttosto che a 20 Eh scusa Me li compri a 10 Piuttosto che a 5 Fai così Questo Questo Aveva detto che voleva Allora Allora conferma Ho ottenuto 115 115 Non è per niente male Mi serve dell'elettricità Giusto gente Quindi Costruisci Perfetto E poi andiamo a pulire Queste due stanze Vai su i supplies Altri soldi Non sarebbe male Io ho ancora 35 dollari In banca È più di quello che ho Nella vita reale Incredibile No non è vero Ho un pochino Più di 35 dollari Non tanto di più Però un pochino di più Dai Allora Missione Assolutamente sì E la prima cosa Che facciamo È sbloccare i templari Poi iniziamo A dare la caccia A i E ai Prescelti In modo da poter Dare più ordini Ai soldati Allora Di certo Miglioriamo Ah cavoli Marcus Fenix Non può andare Forse vale la pena Aspettare Per mandare Marcus Fenix Lo sai Innanzitutto Metto un ingegnere Qua a lavorare Perché Meno tempo Durano le missioni Meglio è 5 giorni Anziché 8 È una bella differenza Perché Vabbè Però in 5 giorni Non ho comunque Marcus Fenix pronto No Devo mandare Marcus Fenix Lì Mi rifiuto Di usare Qualcun altro Per migliorare Il suo hackeramento A questo punto Tu Mi sei più utile Qua A scavare Perché tanto 8 giorni Li devo far passare Prima che Marcus Fenix Può Andare a fare Sta missione A quanto pare Qua non ci possono andare Se sono stanchi Ok Questo Potremmo fare Questo Niente Imboscate Potete solo Rimanere feriti Uno più di vita Di qualcuno A qualcuno Allora Di certo Mi serve qualcuno qua Mandiamo il nostro Cecchino Così se tu La prossima missione È in 7 giorni Posso ancora Mandare voi due Insieme In modo che diventate Super migliori amici Uno più di vita Lo diamo A Sergente Cheroro Sì Non mi dispiace E poi aggiungiamo Un altro soldato Del cavolo In modo che neghiamo La cosa negativa Dell'imboscata Che non ho la più palida idea Di che cosa faccia L'imboscata E In 7 giorni Vuol dire Che per quando ci sarà Il prossimo ordine E Il prossimo fine mese Possiamo dare un ordine In più Al consiglio E Ho fatto un altro errore Non ho controllato Se voi avevate addosso Degli oggetti Leonardo Fibonacci Di certo Aveva qualcosa Credo che avesse La smoke grenade Quindi sono Un cretino Come al mio solito Soldi Molto bene 133 Una volta mi avete dato Tipo 60 Credo Wow Lo sai cosa sarebbe male Cosa non sarebbe male Fare contatto Con un'altra nazione Intanto che ci siamo Così da avere più soldi Alla fine del mese Piuttosto che andare A fare ricerca Su qualcosa che Non è così tanto utile Fammi vedere Rookies O Beh no Uno scienziato è molto utile Vai dallo scienziato Assolutamente Il gioco ha scelto Per me Però se c'erano i Rookies E che ne so Beh Intel Forse l'avrei accettato Beh 88 di Intel È abbastanza Però Già finito Meno male Che ho risparmiato Soldi Che adesso Ci compriamo Queste armi Uh Ispirato Ispirato Allora fammi la ricerca Per l'arma magnetica Da fucile di precisione Compra Questo di certo È per il Ranger e basta No Compra questo Che è per tutti E basta Nient'altro Perché Ah non abbiamo abbastanza Stavo dicendo strano Mi sembra che abbiamo abbastanza soldi No non abbiamo abbastanza pezzi di metallo alieni Bella fregatura Ok va bene Va bene Va bene Trovami questo scienziato Ok Allora Adesso abbiamo Credo Quattro specialisti Tipo No tre Ok Tre cecchini Tre Ranger E tre granadieri Ok Abbiamo un Rookie qua Che potrebbe diventare qualsiasi cosa Alla fine di questa missione Io però So già Scommetto Tutto quello che ho Non è vero Non scommetto niente di quello che ho Che non sarà Un Ranger No non sarà uno specialista Non sarà Ne sono certo Andiamo Uh ci sono i Lost Advent 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 Is unable to deploy At maximum strength Extended timer If this mission has a timer It is increased by two turns Niente male Niente male E Andiamo Potrebbe esserci La tizia La simpaticona Il che È sempre una rottura di balle Averla Se sei in una missione a tempo Perché Sai Devi comunque completare la missione Ma anche non Farti uccidere da lei Allora di certo Vieni tu Di certo vieni tu Venite voi Ah sei stanco Non puoi Quasi quasi Allora non mando te Così non sarai stanco E potrò mandarti di nuovo Insieme con Madre di Bambi Che ne dice Lara Croft Allora a questo punto Mandiamo Eh però il Granadiere Rischia di Allertarmi I Lost Quindi meglio mandare Un cecchino Uno specialista E Un ranger Ma Scusa dove sono i miei ranger Ah Ho solo te Scusami Ho tre ranger Ah John White Perché non c'eri Dove cavoli sei John Raggio Ah ecco ti qua in fondo Ok Non siete esattamente Stra mega forti Siete O al live Siete tutti a livello 1 Mi sa Però va bene così Innanzitutto Vi pigliate le armi Più forti Ok Perché è già potenziata Quest'arma Scusa Perché quest'arma È già potenziata Con uno stock Ho bisogno che qualcuno Questa cosa Me la spieghi Non capisco Però va bene Potenziamo solamente la tua Per il momento Perché tu dovresti avere Il fucile a pompa Shotgun Da 4 a 6 Da 5 a 7 No Conviene comunque Farti usare questo E allora Intanto che ci siamo Io direi che la potenziamo Tanto prima o poi La darò anche a qualcun altro Più mira No Più mira Vorrei darla al granadiere No 10% Non è male Prenditi questo Non è Ah 2 Ah allora Li posso usare Un bel po' Ok Allora Prendi anche questo E potenziamo Anche quest'altra Di nuovo O almeno di nuovo Il gioco L'ha potenziata Per me Quindi E ti prendi L'auto reloader Ah che ne avevo 2 Per di più Ah no scusa Questi qua sono i potenziamenti Che ci ho appena messo Ok si Dovreste essere tutti A livello 1 Va bene Allora Infatti Non abbiamo la Ah no Ce l'abbiamo la smoke grenade Ok Strano Tu ti prendi Il medkit Tu ti prendi Più vita Tu ti prendi La granata stordente Nessuno ci avrà Le granate normali Abbiamo comunque Il coso esplosivo Di te E comunque Le granate Sono pericolose Per i veloce Quindi meglio Non usarle Giusto giusto Andiamo E gente Noi ci salutiamo 61 minuti Direi che va abbastanza bene Per aver fatto 3 missioni Sai 20 minuti per missione È abbastanza veloce Se continuiamo Con questa velocità Dovrei raggiungere Il punto In cui ci siamo lasciati Nell'ultimo Play game Play Play come cazzo Si chiama Ok Sto recuperando Abbastanza velocemente Il tempo perso Più che altro Iiii Vacca miseria Al mio computer Non è piaciuto Per niente Questo intro Di video Ah cavoli È quello in cui Devi recuperare Le casse Ok Questo potrebbe essere Un po' pericoloso Questo potrebbe essere Un po' pericoloso Ma non temo niente Gente Statemi bene Ci vediamo Alla prossima Io vado a dormire 62 minuti di video È mezzanotte e mezza Ci si vede gente Ciao ciao Ciao!